In merito alle notizie riportate da alcuni organi di stampa e sui social relativamente all'autovelox di Agropoli, arrivano i chiarimenti da parte del Comune di Agropoli. Attualmente è stata avviata dalla Prefettura di Salerno un'attività istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni che diedero vita all'emanazione del decreto prefettizio numero 51721 del 68 2010, che riguarda l'intera tratta della Cilentana. Tale istruttoria, che niente ha a che fare con una presunta autorizzazione dell'ANAS, è finalizzata a verificare il tasso di incidentalità dell'intero tratto stradale, nonché le caratteristiche di sicurezza della strada, che dovranno essere evidenziate dalla società ANAS SPA. La società che gestisce la strada statale 18VAR dovrà valutare se sulla stessa si possa procedere in sicurezza alla contestazione immediata delle violazioni accertate sia per gli utenti della strada che per gli operatori di pulizia stradale. Si ribadisce che l'operato, finora svolto dall'ente, è stato compiuto nel rispetto delle leggi che regolano la disciplina del settore. Nell'emore dell'istruttoria continua l'attività di controllo di tutte le forze di pulizia, ivi comprese le pulizie municipali, in merito alle rilevazioni di limiti di velocità. Pertanto, invitiamo intanto ancora una volta gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità che, lo ricordiamo, sono imposti dall'ANAS e non dal comune di Agropoli. Dispiace ancora una volta, afferma il primo cittadino Coppola, dover intervenire sulla vicenda Autovelox per smentire notizie false che vengono diffuse via social da taluni soggetti e riprese senza preventiva verifica da alcuni siti web di informazione per poi rimbalzare anche sulla carta stampata. Una campagna diffamatoria che continua ormai da tempo e non fa altro che confondere e fornire notizie furvianti agli automobilisti. La sicurezza delle persone, conclude Coppola, deve essere sempre al primo posto. Raccomando a tutti prudenza alla guida.